Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon di. Ho stato in Indonesia tant'impa fa e mi pensi a una domenica che ho stato messo, che era il vescovo che lo aveva messo. Poi, finito la messa, ho lasciato mangiare tutti insieme il purcetut che avevano questo, no mo, sospetto, e insieme con il riso. Poi, ho mangiato, ho finito di mangiare, ho attaccato il vescovo a dire qualcosa, e dopo uomini, femmini, anche i frutti, intervenivano a dire che io non capivo ciò che dicevano, ma ciò che mi ha chiamato veramente, è che quando uno finiva di fare l'altro, tutti dicevano e io così, te lo orlengo. No, domenica, ma quando uno finiva, tutti ci dicevano, allora domandateci, non mai che tutti ci dicono quando uno finiva. E mi ha detto il missionario, che quando uno finiva, tutti dicevano che sta consegnando la sua anima a quei che sentivano. Provate a pensare, c'è valore, hai, che di no, la peraule. Buone giornate e buone vite.